I nostri medici, gli impermieri, gli operatori sanitari in questa memoria di San Giuseppe Moscati in cui vogliamo pregare per tutti gli ammalati, in maniera particolare quelli che hanno contratto il Covid ma pure tutti coloro che in questo momento difficile hanno bisogno di cure, di assistenza proprio perché i secoli che sono abbandonati un po' a loro stessi perché l'intercessione di San Giuseppe Moscati li possa aiutare in questo momento di sofferenza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo O San Giuseppe Moscati, medico e scienziato insigne che nell'esercizio della professione curava il corpo e lo spirito dei tuoi pazienti guarda anche noi che ora ricorriamo con fede alla tua intercessione donaci sanità fisica e spirituale intercedendo per noi presso il Signore Allevia le pene di chi soffre, dai conforto ai malati, consolazione agli afflitti, speranza agli istituziati I giovani trovino in te un modello, i lavoratori un esempio, i anziani un conforto, i moribondi la speranza del premio eterno Si per tutti noi, guidaci pura di laboriosità, onestà e carità Affinché adempiamo cristianamente i nostri doveri e diamo gloria a Dio nostro Padre Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo San Giuseppe Moscati, prega per noi Il Signore sia con voi Per intercessione di San Giuseppe Moscati, di benedica Dio Onipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Grazie a tutti